Salve tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini questo piccolo tutorial ti spiego come risolvere così l'errore riguardo al disco che la struttura del disco è corrotta oppure è illegibile quindi in questo caso non possiamo accedere al nostro disco quindi in questo caso andiamo direttamente sul nostro prompt dei comandi quindi vai a scrivere direttamente cmd qua sopra tasto destro sopra qua esegui come amministratore una volta eseguito come amministratore il prompt dei comandi andiamo così a scrivere chkdsk spazio quindi chkdsk spazio andiamo così a mettere lo slash questa qua vai a schiacciare così la lettera f la devi mettere anche se non hai disco con la lettera f spazio e ora puoi mettere la lettera del tuo disco quindi in questo caso il mio disco è questo qua f quindi vado a mettere f due puntini e faccio invio non sono necessarie ulteriori azioni e il mio disco funziona una volta fatto fai exit e fai invio e riavvia il sistema quindi se questo video è stato utilissimo su come solvere così l'errore riguardo al disco corrotto o illegibile iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao